Un primo metodo secondo me anche poco sfruttato per ottenere una manipolazione o meglio un controllo sulla trasformazione dell'immagine dal colore al bianco e nero è quello dato dalla semplice trasformazione in bianco e nero qui all'interno del pannello base e poi il semplice procedere per variazioni di bilanciamento del bianco. Notate come il bilanciamento del bianco durante un'operazione di bianco e nero automatica fatta da Lightroom 3 permette appunto di poter controllare molto bene la mappatura tonale del bianco e nero e in questo modo è possibile appunto arrivare a controllare questo passaggio. Vedete come sia possibile con certe combinazioni per esempio riuscire ad ottenere del dettaglio. Ovvio che poi tutta la situazione può essere ancora recuperata tramite i soliti cursori che lavorano esclusivamente sulla mappa tonale come d'altronde era già stato fatto. Vediamo in un'altra foto la stessa tecnica. Parto dunque da questa immagine a colori che è già stata lavorata da un punto di vista delle correzioni tonali e clicco direttamente sul tasto bianco e nero. A questo punto comincio a lavorare sui cursori di temperatura di colore e di tinta e in questo modo vedete come io riesca o perlomeno abbia la possibilità di trovare diverse combinazioni appunto di temperatura e di tinta che portino ad avere un bianco e nero soddisfacente. In conclusione possiamo dire che questa tecnica non è sicuramente quella che ci dà la maggiore padronanza e controllo sul passaggio tra il colore e il bianco e nero ma sicuramente è la più semplice e la più immediata e da un altro punto di vista anche poco conosciuta. Per cui è sufficiente con Lightroom 3 cliccare sulla voce bianco e nero e poi agire esclusivamente sulla temperatura di colore e in questo modo si possono arrivare ad ottenere appunto diverse versioni del bianco e nero.